Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi ripropongo un video che sul mio canale vi ho proposto diverse volte, che a me piace tantissimo, però oggi lo voglio proporre facendo anche una riflessione e approfittando anche di un regalo che mi è stato fatto da un'azienda. La riflessione è come è cambiato in quest'ultimo periodo anche il modo di riempire le nostre borse. Allora, io sono una che ha sempre riempito le borse a dismisura. Io ho sempre sentito la necessità, quando sono fuori, di mettere dentro la borsa tutto quello che mi può essere utile. Quindi ho sempre utilizzato delle borse abbastanza capienti. In quest'ultimo periodo sappiamo insomma quello che stiamo vivendo, sono cambiate le abitudini, è cambiato un po' tutto, compreso il tempo che noi trascorriamo fuori casa, che è pochissimo, se non per andare a fare la spesa, per andare a lavorare e per chi fa dello sport all'aperto, ma ovviamente in quel caso non porta con sé la borsa. Per esempio, io portavo sempre con me tutto il make-up necessario per il ritocco, quindi avevo una pochette dedicata esclusivamente al make-up, con dentro il rossetto, mi portavo la cipria, un po' di terra, sistemavo il correttore, comunque avevo una pochette proprio dedicata al make-up. Questo adesso non lo faccio più, quindi c'è questa parte assolutamente mancante all'interno delle mie borse, perché ripeto, esco per fare la spesa o per andare alla posta a pagare un bollettino, non vado al ristorante, non si va in pizzeria, ma non soltanto io, tutti. Quindi non c'è più quello stare fuori tantissime ore durante la giornata e quindi il discorso ritocco. Poi tra l'altro non mi trucco più tutti i giorni per il discorso della mascherina, per cui queste cose non le porto più. Per esempio, c'era la possibilità appunto di sedersi in un bel ristorante, una bella pizzeria a mangiarsi una pizza, adesso non si può fare e quindi dentro la mia borsa non c'è più per esempio il filo interdentale, quello immancabile perché io sono una fissata che se mi rimane una cosa nel dente, se sono fuori casa divento pazza se non posso lavare i denti, quindi per me il filo interdentale era necessario, adesso non lo porto più perché non si mangia più fuori. Altra cosa, proprio per il fatto di mangiare fuori, io sono fissata con l'odore dei capelli, quindi quando andavo al ristorante, in pizzeria, una volta fuori, io mi sentivo sempre quell'odore di cucinato, di forno e quindi profumo per capelli sempre in borsa, cosa che adesso non faccio più perché queste uscite sono talmente brevi insomma che tutta sta roba è in più e quindi non mi serve assolutamente. Un'altra cosa è il libro, io avevo sempre in borsa un libro perché magari avevo l'opportunità di fermarmi da qualche parte su una panchina a leggere un libro oppure durante un aperitivo al bar magari mi soffermavo quel quarto d'ora, mezz'oretta in più a leggere il mio libro e adesso non si può fare più perché comunque non è una cosa di prima necessità insomma sedersi fuori all'aperto in un parco a leggere un libro, quindi è una cosa che evito di fare. Sto parlando delle situazioni in cui siamo tra la zona arancione e la zona rossa insomma quello è quello che ci viene concesso di fare quindi un po' di attività all'aperto vicino casa, andare a lavorare e andare a fare la spesa. Io tra l'altro in questo periodo non sto neanche lavorando perché la mia attività purtroppo deve rimanere chiusa quindi capite bene che tante cose all'interno della borsa non ci sono più ma tante cose adesso sono dentro la borsa, cose che magari prima non portavamo con noi. Quindi io partirei subito, innanzitutto vi faccio vedere la meraviglia, la meraviglia di borsa che mi ha mandato Gioseco. Io la trovo stupenda, mi piace tantissimo, in realtà l'ho scelta io, loro mi hanno semplicemente detto scegli qualcosa dal sito, non è la prima volta che collaboro con Gioseco, voi lo sapete, tante di voi hanno acquistato nell'ultimo video, insomma, che è stato parecchio tempo fa, vi avevo proposto uno zainetto stupendo e mi pare che tante di voi lo hanno preso. In questo caso ho scelto questa borsa bellissima, una borsa che diventa anche uno zaino spostando una di queste tracolline, con queste vedete, che potete portare dietro, diventa uno zaino, ma io la preferisco assolutamente come borsa. È una borsa in tessuto, guardate, sembra tipo sì, è una tela, in questo colore molto neutro, una sorta di color tortora, mi piace poi tutti i contrasti che ha con il color cuoio, e poi ha queste due tracolline e io la porto, ovviamente, così a spalla. Poi con il maglioncino che ho oggi, secondo me, sta alla perfezione. Allora, è piena di inserti, è troppo carina. Allora, qui, come potete vedere, nella parte posteriore c'è un bel cascone, vedete, nel quale potete mettere magari tutte quelle cosine che dovete avere subito a portata di mano, ma anche davanti c'è un ulteriore tascone, anche qui, bello capiente, ci possiamo mettere, insomma, quello che ci serve all'ultimo minuto. La cosa che mi piace di questa borsa è che ha un mare di chiusure, nel senso, la potete chiudere, quindi, aspettate, eccola, da qui, vedete? E allo stesso tempo la potete chiudere dall'interno perché, vedete, c'è anche un bottone, e poi la potete chiudere anche così, tutta chiusa così, perché avete degli altri bottoncini interni laterali. Quindi la potete chiudere completamente e metterla in ulteriore sicurezza con quest'altro gancetto. Quindi, se andate di fretta, magari, io quando sono di fretta non faccio tutte queste chiusure, ma la blocco semplicemente con questo. Io la trovo bellissima, questa borsa, super super capiente, mi piace così lateralmente che rimane un po', vedete, un po' arricciata, è troppo troppo carina. E vi faccio vedere che è di una capienza pazzesca. Proprio grande, 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 guardate, e all'interno ci posso mettere un sacco di cose. Adesso la svuoto così poi vi faccio vedere anche tutti i vari tasconi interni che ha questa borsa. Allora, andiamo così, vediamo quello che c'è dentro. Quindi, occhiali da vista immancabili, questi li ho presi da Eurospin, a me piace tantissimo il portaocchiali. Questi sono neri con, vedete, le asticelle fucsia. Mi piacciono un sacco perché io ne ho un paio sul comodino per la notte, se devo leggere e guardare il telefono, un paio al lavoro, un paio in borsa, e un paio al piano di sotto, perché altrimenti mi perdo tutto. Non vi mostrerò il telefono, ma vi metto una foto qui. Ho cambiato telefono, adesso ho l'iPhone 11 Pro, perché registro col telefono, quindi non ve lo posso far vedere. Poi porto con me queste cuffiette, come si chiamano? Airpods? Io non sono molto tecnologica, comunque non sono proprio per l'iPhone, ma io le trovo troppo, troppo, troppo carine, guardate. Sono tipo un rosa corallo, volevo una cosa così, un po' vezzosa, e quindi ho preso le cuffiette colorate. Poi l'avete intravista, certamente, una penna, siccome io sono romantica, questa me l'ha regalata mio marito, è troppo carina, a forma di girasole, e quindi una penna all'interno della borsa. non deve mancare, immancabile. Come? Come non deve mancare il ventaglio, per quanto mi riguarda. Allora, io il ventaglio lo porto in borsa sempre, estate e inverno, perché soffro di vampate, vampate di calore, e quindi mi devo portare il ventaglio. Poi, vi faccio vedere, questa ve la faccio vedere alla fine. Allora, siccome indossiamo la mascherina, diciamo che io l'acqua termale la porto sempre in borsa, sia in estate che in inverno, però adesso trovo che sia molto utile, perché quando io, per esempio, sto tante ore fuori e tante ore con la mascherina, per esempio, tra file in banca, file in posta, poi al supermercato, quando salgo in macchina, e mi tolgo la mascherina, mi spruzzo l'acqua termale, perché nel frattempo il mio viso si è molto seccato. L'acqua termale, in questo senso, mi sta dando una mano a tenere la pelle sempre idratata. E in questo momento sto utilizzando questa, questa acqua termale meravigliosa di Balea, ma ovviamente qualunque acqua termale può essere utile. Poi, il portafogli, ovviamente già questo lo avete visto, con stampata la città di Parigi, me lo ha regalato mio marito, ed è stupendo, questo portafogli super 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 capiente, ci va un po' di tutto, io adoro i portafogli quelli belli, belli corposi, belli giganteschi. Poi, chiavi della macchina, ovviamente col mio portachiavi a nomi strandi, con la foto dei miei cucciolotti, dei miei nipotini, e le chiavi di casa, molto parigine, con la tour Eiffel, e i cuoricini che richiamano la bandiera francese. Voi sapete, io ho questo amore per la Francia. Poi, non mi devono mai mancare, e li tengo dentro questo sacchetto, le caramelle per i cari di zucchero, perché soffro di pressione bassa, e eventualmente uno spuntino, se magari sono in giro, perché devo andare a fare una commissione, alle quattro e mezzo del pomeriggio, devo fare la merendina, sono ancora fuori, e quindi, in questo caso, una bella barretta multigrain, di tre mulini, che acquisto da Eurospin. Queste cose, soprattutto le caramelle, a me non devono mancare mai. E poi, una pochette, questa è una pochette di Charlotte Tilbury, che mi ha regalato mia cognata, Giulie, che mi regala sempre delle cose fantastiche. Allora, cosa c'è dentro la pochettina? Dunque, immancabili le mascherine, usa e getta, perché, mi è capitato, che si rompesse, il laccetto della mascherina, e sono andata nel panico. Quindi, le porto sempre con me, per ogni evenienza, mascherine, quelle, le dobbiamo avere sempre con noi. E le mascherine, ovviamente, non erano contemplate, prima, all'interno delle nostre borse. Come? non era, devo dire la verità, mia abitudine portare un igienizzante per le mani. Di solito avevo le salviettine, quelle multiuso, umidificate. Adesso, ovviamente, è rientrato nell'abitudine quotidiana, l'uso degli igienizzanti, in spray, in crema, in gel, insomma, e credo che ce lo porteremo ormai a lungo, ce la porteremo a lungo questa abitudine. Io ho questo, IGENX, con il 70% di alcol. Io preferisco, in realtà, la versione spray, la trovo più pratica, si assorbe con più facilità. E quindi, anche questo è un qualcosa in più che noi portiamo con noi. Poi, un burro cacao, sempre, perché comunque, con le mascherine, le labbra, le mie, sinceramente, ne stanno risentendo. Sono quasi sempre molto, molto secche. E quindi, devo idratarle spesso. E con me, in questo momento, in borsa, ho questo di baletto, al cocco, che è un burro cacao, molto carino, tra l'altro, è leggermente colorato, e ha un odore buonissimo, e tra l'altro, comunque, fa benissimo il suo lavoro. Ovviamente, una crema mani, immancabile, perché, quando sento le mani, molto, molto, molto secche, ho bisogno, appunto, di idratarle, soprattutto, quando sono al lavoro. al lavoro, non solo le igienizzo, le lavo spesso, quindi, devo comunque, ogni tanto, intervallare, con una crema per le mani, e questa, ve la straconsiglio, è la crema, le mandorle dolci, di Bottega Verde, che, oltre ad avere, una profumazione incredibile, idrata tantissimo le mani. Poi, uno specchietto, questo è carinissimo, guardate quanto è carino, così tutto maculato, ma, ovviamente, con il fucsia. Assolutamente, un deodorante, soprattutto, quando, lavoro, ma, comunque, sapere di averlo in borsa, mi fa sentire, al sicuro, perché una rinfrescata, non fa mai male. Questo è un prodotto nuovo, di Dicia, che ho trovato al tulipano, ed è un deodorante, vapo bifasico, si chiama Silk Shake, e questa, la profumazione, è fresco marino, ma ci sono altre due profumazioni, una fase deodorante, una fase emolliente, non contiene alcol, va shakerato, e poi, spruzzato, si può spruzzare tranquillamente, anche sul corpo, e ha una profumazione, iodata, marina, molto, molto fresca, mi piace tantissimo, ha proprio quel sentore salino, e poi, i fazzolettini, perché questi, diciamo, sono sempre, molto, molto, molto utili. Allora, ultima cosa, che vi faccio vedere, è il profumo. Io porto con me, sempre il profumo, e porto con me, sempre, il profumo, che indosso, quella giornata, e, in questo momento, ho in borsa lui. Allora, Le Petit Plaisir, questo è, l'eau de toilette, alla violetta, e macarone. Anche questo, è stato un regalo di mia cognata, me li ha mandati dalla Francia, e questa profumazione, è buonissima, perché è una profumazione, mmm, talcatissima, che sa di violetta, una violetta addolcita, da questa nota vanigliata del macaron, ed è un profumo, che ricorda proprio i confettini, è un profumo molto confettoso, ricorda proprio l'odore dei confetti, alla violetta, delle caramelline alla violetta, dura tantissimo, e soprattutto, poi diventa un super, super talcato, proprio morbido, che sa di violetta, che sa di talco, questa profumazione, l'adoro, è buonissima. E quindi, ho svuotato la mia borsa, e vi faccio vedere, quanto è capiente, perché è veramente, se riesco, tanto, tanto grande, e, dunque, due super tasconi, qui, molto, ma molto profondi, poi, due tasche ancora, quindi, una qui, e una, un po' più in giù, lo so che non si vede bene, ma non è, non è facile, quindi avete la bellezza di, uno, due, tre, quattro tasconi, ovviamente, da poter riempire, a dismisura, la borsa è davvero, tanto, tanto capiente, dunque, grazie a Giuseco, per quest'altro regalo, vi lascio giù nell'info box, tutte le informazioni, perché Giuseco, mi ha, ehm, dato un codice sconto, per voi, vi metto tutto giù, nell'info box, mi raccomando, se siete interessate, o interessati, c'è un ottimo codice sconto, e questa borsa, è, troppo, troppo carina, dunque, io vi ringrazio, per aver visto il video, spero di avervi tenuto compagnia, fatemi sapere cosa voi avete eliminato dalle vostre borse, e cosa invece avete inserito abbondantemente all'interno delle vostre borse, vi ringrazio come sempre per l'affetto che mi dimostrate, per aver seguito il video, tanti tanti bacini, se vi va, ci vediamo alla prossima, ciao, ciao ciao!